Il titolo del corso è già significativo. Raccontarsi significa entrare nel vivo di un laboratorio che la storia letteraria mantiene vivo dal medioevo fino ad oggi, anche se noi ci fermeremo, ci soffermeremo soprattutto sulla letteratura moderna e contemporanea. Raccontarsi vuol dire entrare nel, diciamo così, nel motore della macchina narrativa con le caratteristiche naturalmente di chi pone se stesso o il personaggio che deve impersonare le proprie memorie, i propri ricordi al centro di questa operazione. È un corso in qualche modo aperto e dedicato a tutti e che, d'altro canto, consente anche di imparare a leggere oltre che a esercitarsi, entrando appunto nel laboratorio dell'autore, a scrivere, a tracciare le coordinate per poter scrivere, per poter ricordare. In qualche caso si tratta davvero di focalizzare quali sono gli elementi della scrittura e del proprio sé. Per chi è interessato a immergersi nel proprio sé, nella propria memoria, anche attraverso il racconto autobiografico, anche attraverso il micro racconto, e noi faremo un paio di esercitazioni a questo riguardo, beh, vi invito a iscrivervi a questo corso a Cittastù.